Buongiorno, io fino a qualche mese fa ero terrorizzata a avvicinarmi al pc, a novembre ho cominciato con Erika a fare un percorso, ho avuto molta pazienza perché era dal 2000 che non toccavo un pc, avevo un rifiuto categorico per la sintesi vocale. Adesso come potete vedere io ho un desktop che ho strutturato con le mie attività. Questo è il mio desktop, Outlook mi permette di vedere la posta, poi mi sposto ovviamente con le freccette. Questo è il zoom che io entro e ho la possibilità ovviamente di, mi sposto col tab, ho la possibilità di tenere le conferenze e ospitare gli amici quando facciamo i caffè letterari o anche i parenti, quelli che vogliono parlare con me. Entra in una riunione, 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 entra in una riunione pulsante. Adesso ovviamente lo tolgo perché non mi serve. Poi ho la voce, una sintesi, NVDA.